Dopo il segretario leghista andiamo a sentire la voce dei due vice segretari, che sono anche segretari della Lega Lombarda e della Liga Veneta, Matteo Salvini e Flavio Tosi. Matteo Salvini, partiamo da questa Assemblea federale, da qua sono uscite tante idee per la Lega. Sì, sono contento perché abbiamo parlato di temi concreti, leggevo questi giorni le polemiche del PD che stanno litigando su chi vota e chi non vota, quelli alti, quelli biondi, dove andiamo, cosa facciamo. Noi parliamo di Euro, una posizione chiara, superamento di questo Euro, questo Euro è una truffa, è una palla al piede, è la morte della nostra impresa e del nostro lavoro. E questa è una battaglia solo della Lega perché me e tutti gli altri invece sono ancora convinti che questa Europa e questo Euro siano la nostra salvezza. E poi me li sono segnati alcuni spunti anche interessanti sulla famiglia, gli asili nido pubblici e gratuiti come il modello francese, quindi temi abolizione delle prefetture e delle sovrintendenze, quindi sia il sindaco a decidere sia sulla sicurezza che sui beni da tutelare, senza rompere le scatole, questi organismi romani spendono e non c'entrano niente. Poi il superamento della legge Merlin, la tassazione della prostituzione, linea chiara sull'immigrazione clandestina, sulla famiglia, il papà e il papà e la mamma e la mamma, e non ci sono altre menate. E poi la questione economica. I sindaci abbiamo sentito un consigliere della Lega di opposizione di Arenzano, quindi non è un ragionamento, facciamo le battaglie dove ci interessa direttamente. Ad Arenzano, in Liguria, dove la Lega è all'opposizione, il comune ha fermi 13 milioni di euro in cassa e non li può spendere, è follia. Quindi la battaglia alla morte con Roma e con Bruxelles, chi ha un euro in cassa perché l'ha risparmiato, lo spende, sia di destra, di sinistra, di sopra, di sotto in Liguria, in Lombardia, in Puglia. I comuni che sono stati bravi devono spendere quei soldi, oggi non è possibile e quei soldi sono asili nido, sono case di riposo, sono strade asfaltate, sono palestre. Questa è la battaglia della vita. E poi il fronte interno Lega che mi ha dato vigore, insomma. Per quanto del fronte interno della Lega, oggi è venuta anche la notizia del futuro congresso della Lega a dicembre. Un congresso diverso da quelli del passato perché sarà aperto, ci saranno le votazioni e il nuovo segretario verrà votato dalla base. Bella idea, bella idea. La Lega è sempre riuscita a coinvolgere tutti i militanti, anche oggi. Qua c'erano un migliaio di persone, ma che erano rappresentanti delle sezioni, dei territori, dei comuni, dei direttivi provinciali. Quindi non c'era gente che passava per strada. Però far votare tutti, appunto mentre gli altri partiti il PDL si trasforma, non si sa cos'è, ma nessuno vota nessuno. Il PD si sta scannando da un mese sulla data, sul posto, sulle modalità, chi vota, chi non vota. Quella di Maroni mi sembra un'ottima idea, votano tutti, votano tutti perché la Lega è di tutti i militanti. Quindi è una bella sfida, è una bella sfida. Fino a dicembre c'è tempo, c'è tanto da fare nella Lega Lombarda, però ci fa un pensierino anche per la sua candidatura. Io penso alla Lombardia e sono a disposizione della Lega. Io penso che questa settimana gireremo diverse fabbriche a rischio chiusura o già chiuse in Lombardia. E questa è la nostra trincea, tornare in fabbrica, tornare in azienda, tornare in mezzo alla strada. Poi se votano i militanti, è la cosa più bella, l'idea di Salvini, di Tizio Di Caio è l'ultima che conta. Siano i militanti a scegliere chi può portare avanti questa splendida nave. La manifestazione come questa esce più forte la Lega, si conta, si vede? Sì, a volte anche noi ci dimentichiamo di quante energie abbiamo, quanti sindaci sconosciuti perché non vanno da Bruno Vespa o su Canale 5, che però hanno ribaltato le loro città, che fanno di tutto, che hanno approvato dei libere incredibili, che non spendono i quattrini a vanvera. Quindi incontrando queste persone, leghisti delle Marche, della Toscana, dell'Umbria, vuol dire che se sei in trincea in quelle terre di confine non puoi che crescere e vincere. Vice segretario Tosi, a un anno di distanza dagli Stati Generali, con questa assemblea in qualche modo la Lega aggiorna il suo programma? Sì, lo definisce perché era giusto dare sia ai militanti ma soprattutto agli elettori notizia di quello che la Lega farà in concreto perché questi documenti programmatici sono sette paginette leggere per punti, quindi con scritto quello che vogliamo fare. E in questo modo adesso, siccome oggi il consenso lo conquisti sul fare, sulle cose che dici di fare, poi le fai e quindi adesso possiamo recuperare la credibilità, la fiducia sta già tornando, lo si percepisce perché gli episodi, i brutti episodi del passato ormai sono stati superati dal buon governo, dalla buona gestione, dai tre governatori che stanno lavorando bene. Per allargare la base di consenso bisogna portare a casa dei risultati e lì c'è scritto cosa si andrà a fare nel momento in cui raggiungeremo questi risultati e riconquisteremo il consenso elettorale. Qual è il risultato principale secondo lei che bisogna raggiungere nell'immediato per recuperare ancora di più credibilità? I due temi sono, anzi tre, sono sicuramente la sicurezza, quello è un tema che a livello di mass media nazionali passa poco ma in realtà c'è un allarme fortissimo in termini di migrazione clandestina e soprattutto di micro criminalità diffusa furti negli appartamenti, furti nei garage, anche per colpa della crisi il fenomeno esplosa e quindi bisogna tornare a far sentire la nostra voce su quello, il tema del federalismo perché se il paese deve ridurre la spesa e il debito pubblico che sono le uniche possibilità che ci sono per uscirne da questa crisi, devi impedire gli sprechi perché gli sprechi ci sono e per impedire gli sprechi devi fare federalismo e quindi responsabilizzare i vari livelli di spesa, le varie regioni, le varie realtà. L'altra questione è quella della burocrazia, bisogna sburocratizzare e lì avendo le leve delle tre regioni in mano allora puoi portare dei modelli positivi che vengano apprezzati e capiti dalle famiglie e dagli imprenditori e magari poi diventano anche dei modelli nazionali quando vedono che le nostre regioni lavorano bene. Senta, dall'assemblea di oggi è arrivato anche l'annuncio del segretario federale Maroni che si farà il congresso federale il 14-15 dicembre con una novità importante, l'elezione diretta del segretario aperto ai militanti. Sì, allora io non sono contento del congresso, l'ho sempre detto perché secondo me era importante che restasse Bobo Maroni e l'ha pensato tuttora così. Se però il segretario vuole fare tutti i costi di congresso, tocca farlo. In quel caso coinvolgere tutti i militanti, essere forzato una bella forma di partecipazione per così si insomma scelgono loro direttamente anziché passare attraverso la delega. Dimostra la forza e la compattezza del movimento e se si riuscirà a farlo unitario, questo congresso è ancora meglio perché questo darebbe, tutti i militanti che votano, tutti i militanti che votano uniti per il nuovo segretario sarebbe anche una straordinaria dimostrazione di compattezza. Lei presenterà la sua nuova fondazione e tra poco, ha detto anche l'ha ripetito oggi, non è una fondazione che va contro la Lega. Non è un partito, è uno strumento, la fondazione è praticamente una specie di strumento tecnico perché per lanciare le primarie nel centro-destra, per sostenere un programma, serve un luogo dove chi si riconosce possa aderire e quindi appunto non volendo fare un partito perché non lo sarà, c'è una fondazione dove i cittadini dicono mi piace questo programma, mi piace questa idea, aderisco. Ed è una cosa che è fatta con la Lega e per la Lega perché in realtà alle prossime elezioni politiche, quando saranno, bisognerà indicare un candidato premier a meno che non si faccia la scelta e non presentarsi perché si fa quella scelta, il problema è risolto a pie pari. Ma se si deve indicare un candidato premier, se si vuole correre da soli, bisogna comunque sceglierlo e come sta facendo appunto anche Maroni con il congresso, allargare la possibilità di scelta a tutti è sempre un meccanismo di partecipazione e democrazia e quindi per scegliere il nostro candidato premier dovremmo fare le primarie. Se ci sarà alleanza all'interno del centro-destra, perché non fare le primarie anche del centro-destra altrimenti si rischia che, come sempre, il candidato sia di qualcun altro, che ti tocca votarlo che non ti senti partecipe e soprattutto che anche da un punto di vista del mass media sparisci perché quando compare solo Borlusconi fino ad adesso per capirci, la Lega veniva ecclissata in campagna elettorale mentre invece in questo modo ci sarebbero anche gli uomini della Lega presenti e quindi sarebbe anche un'occasione per il movimento di avere maggior visibilità quindi la sostanza è perché la Lega non può avere il diritto anche lei di dire esprimo un leader nazionale anziché per forza andare al traino di qualcun altro. Il ritorno di Forza Italia in qualche modo, secondo lei, facilita o no queste primarie? Cosa ne pensi? Il ritorno di Forza Italia è un cambiamento del simbolo ma oggi le operazioni restali sui simboli spostano poco. Una volta quando si andava a votare si votava molto il simbolo senza fare tante valutazioni. Oggi invece i cittadini e gli elettori votano le persone quello che dicono e soprattutto quello che fanno e quindi se tu cambi il simbolo ma non cambi le persone non serve a niente. L'ultima domanda veramente lei si sarebbe aggregato a Fassino nel lanciare l'allarme per quanto riguarda il bilancio dei comuni e arrivare addirittura a non poter pagare gli stipendi? Beh lì c'è il comune di Torino che ha una situazione super particolare perché il comune del nord Italia ha a bilancio la cifra più grande di residui attivi e quindi evidentemente forse ha delle difficoltà contabili superiori ad altri. Noi non abbiamo una situazione di quel tipo, cioè da rischiare perché comunque il bilancio è apposto e i conti sono in ordine. Che ci sia il problema del patto di stabilità che hai i soldi fermi e non li puoi utilizzare quello sicuramente sì.